Ciao a tutti! Allora oggi vi voglio parlare di un libro da cui prendiamo degli spunti ovviamente di Emily Wapnick che si chiama Diventa chi sei. Innanzitutto è bellissima la copertina verde perché è molto allegra e ispiratrice ma detto questo si aprono qui vari orizzonti. Allora innanzitutto Diventa chi sei è una frase molto importante perché quando siamo in una fase quando si è in una fase in cui si vuole cambiare qualcosa della propria vita si è a un bibio e c'è questo desiderio di realizzare veramente se stessi la prima domanda che bisogna porsi e poi anche cercare di mettere anche per iscritto alcune cose in modo che rimangano più impresse è proprio chiedersi chi sono io perché perché molte volte noi pensiamo di voler fare una cosa pensiamo di volere veramente una cosa di voler diventare quel qualcosa ma la discrepanza fra quello che vogliamo essere quello che vogliamo diventare e chi siamo veramente noi è quella 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 differenza che fa sì che noi non riusciamo a realizzare veramente noi stessi perché noi dobbiamo veramente capire chi siamo ok e da qui ovviamente si apre un mondo perché ovviamente per capire chi siamo dobbiamo ovviamente ognuno poi a seconda del proprio del proprio background della propria esperienza personale deve fare poi un certo percorso e magari si utilizzano appunto degli degli strumenti degli esercizi ad hoc proprio per arrivare a capire veramente chi siamo perché se partiamo da questo se veramente abbiamo le idee chiare di chi siamo chi vogliamo essere chi siamo noi dopo da lì ovviamente si può imbastire e progettare quello che vogliamo diventare ma attenzione appunto come dicevo prima questa differenza fra chi siamo veramente noi e quello che ci accingiamo a fare questo è diciamo la prima cosa importante che volevo dirvi e che ovviamente richiede come poi spesso faccio anch'io con le persone che hanno questi dubbi e mi chiedono aiuto nel capire insomma chi sono e come autorealizzarsi come veramente trovare una fra virgolette propria felicità e poi c'è questo libro che è un è un input in più diventa chi sei di emily wapnik perché perché questo libro parla in particolare di tutti coloro che hanno molteplici interessi cioè delle persone multipotenziali spesso io per io in primis mi sono sempre sentita in passato un po non giusta sbagliata perché non ero una di quelle persone che faceva lo stesso lavoro per tutta la vita e che aveva le idee chiare da subito e che aveva un unico interesse lo portava avanti e bene sappiate che noi multipotenziali non siamo affatto sbagliati tutt'altro anzi abbiamo quelle capacità e di poter sviluppare più cose insieme che non è da tutti ovviamente bisogna farlo con un certo criterio e anche questo quindi è un altro percorso che si può fare insieme sulla multipotenzialità quindi in particolare questo libro diventa chi sei di emily wapnik parla proprio delle persone multipotenziali ok bene dopo questa pillola di diventa chi sei scopri chi sei io vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao